Cari lettrice e cari lettori, ben ritrovati finalmente. Dopo, devo dire, un'assenza estremamente lunga, chissà, qualcuno avrà sentito la mia mancanza, qualcun altro no, ma l'importante è essere qui e condividere con voi, insomma, il sapere, ecco. Dunque, oggi, sempre per quanto riguarda la letteratura in pillole, porterei un letterato, un linguista, un artista fenomenale di nome Niccolò Tomaseo. Probabilmente non sarà noto a tutti, ma a molti sì. Chiaramente non è un poeta minore, di fatti fa parte di un'altra rubrica, cioè quella della letteratura in pillole. Comunque, io qui ho il suo autografo, si vede male, chiaramente, e probabilmente anche al contrario, ma non importa, l'importante è l'idea. E, una curiosità, come potete notare, l'autografo ha una calligrafia totalmente differente dal testo. Uno potrebbe dire, com'è possibile? Forse è un falso? Forse no. L'idea è questa. Il Tomaseo ebbe dei disturbi alla vista estremamente importanti e lo portarono poi a diventare totalmente cieco. Quindi mi sono fatto questa idea. Probabilmente, qua siamo nel 1956 circa, qualcuno ha scritto il testo che lui ha dettato, mentre l'autografo, visto che era una cosa veloce, è stato messo dal Tomaseo stesso. Ecco perché questa differenza. Quindi possiamo affermare che è sicuramente autentica. Comunque, chiaramente io ho delle note davanti a me scritte per formulare un discorso, quindi guarderò un po' la telecamera e un po' no. Comunque, andiamo avanti. Nicolò Tomaseo fu uno scrittore, uno studioso, linguista e patriota italiano. Nasce a Sebenico nel 1802 e morirà poi a Firenze nel 1874. Chiaramente io adesso passo velocemente la sua biografia per poi parlare, soffermarci qualche minuto sul suo stile poetico, sulle prose e via dicendo. Dunque, stiamo parlando di una figura di rilievo del cattolicesimo romantico. Il Tomaseo, possiamo dire, che sentì fortemente la contraddizione tra i valori della tradizione religiosa e le nuove istanze della modernità. Quindi già abbiamo un primo contrasto. Dalmata, anche se la famiglia era di origine veneta, studiò a Spalato ed ebbe una ricca educazione umanistica, quindi nuovissimo fattore importante questo. A Padova nel 1819 conobbe il filosofo Rosmini e nel 24 a Milano addirittura Manzoni e Cesare Cantù, quindi delle personalità abbastanza importanti di quell'epoca. Bene, dal 1827 a Firenze iniziò un'attivissima collaborazione con l'antologia di Vieux-Seux, cominciando a dedicarsi a ricerche di carattere linguistico. Ad esempio abbiamo il Dizionario dei Sinonimi, siamo nel 1830, che resta ancora oggi un importante contributo alla storia e alla definizione della lingua nazionale. Bene, a Parigi invece nel 1834 conobbe Mazzini. Per quanto riguarda invece le sue pubblicazioni, beh, pubblicò diverse opere chiaramente di poesia, come le confessioni, siamo nel 1836. Nel 1837 pubblica Versi facili per gente difficile, quindi un titolo probabilmente molto azzeccato, e nel 1838 invece pubblica Memorie poetiche e poesie, che diciamo raccoglie in parte e sistematicamente le due opere precedenti. Bene, andiamo avanti. Diciamo che in più nell'ambito invece della narrativa scrisse i romanzi Il Duca d'Atene, siamo sempre nel 1837, nel 38 Il Sacco di Lucca, e in aggiunta elaborò un poderoso, un ponderoso, scusate, commento alla Divina Commedia, sempre nel 1837, in cui mise in luce le fonti bibliche del poema dantesco. Un anno più tardi, siamo nel 38, fu per alcuni mesi in Corsica, dove stese il romanzo, in parte autobiografico, Fede e bellezza, che è pubblicato invece nel 1840. Otto anni più tardi, siamo nel 1848, fu a capo dell'insurrezione veneziana contro l'Austria. Arrestato con Daniele Manin, fu liberato invece dall'insurrezione popolare e posto a capo della risorta Repubblica di San Marco, la quale però sopravvisse fino al 22 agosto del 1849, quando, dopo una strenua resistenza, la città tornò sotto il dominio asburgico. Bene, quindi dopo la sconfitta del 1849, fu costretto all'esilio a Corfu. In più, il Tommaseo prese posizione anche sulla questione romana, auspicando una rinuncia al potere temporale da parte del Papa. Nel 1854, finalmente ottenne l'autorizzazione a trasferersi a Torino, ma la sua crescente avversione alla politica di Cavour lo isolò dall'ambiente cattolico liberale torinese. Anche per questi motivi, nel 1859, si recò a Firenze, dove si dedicò con passione, nonostante, come abbiamo detto, i crescenti disturbi alla vista che lo resero quasi cieco, alla preparazione e alla pubblicazione di un grande nuovo dizionario della lingua italiana, cioè vero monumento al suo costante impegno in ambito linguistico. Qui siamo alla fine della sua biografia, cioè Niccolò Tommaseo morirà a Firenze all'età di 72 anni, il giorno 1 maggio del 1874. Il suo stile letterario, lo possiamo dire, fortemente espressivo, ne fa uno degli autori più rappresentativi della letteratura italiana dell'Ottocento. Bene, questa era la sua biografia, ora passerei invece al suo stile, come abbiamo detto, poetico e alla prosa. Bene, diciamo che caratteristica del lavoro di Tommaseo è sicuramente una vibrante contraddizione, questo è importante, fra antico e moderno, fra sentimento cattolico e generoso slancio rivoluzionario. Le sue opere sono una assoluta miniera di annotazioni umane e linguistiche. Anche per questo il suo capolavoro, a parte i dizionari, risulta il romanzo Fede e bellezza, che in sintesi narra la storia d'amore di Giovanni, esule italiano in Francia, per la bella e sensuale Maria, italiana anch'essa. Entrambi però provengono da esperienze segnate dal peccato e anche la loro passione si svolge in parte sotto il segno negativo della carnalità. Diciamo un testo abbastanza moderno, contemporaneo, meglio. Sono tuttavia animati da una forte passione religiosa, grazie alla quale sanno iniziare un cammino di redenzione. La narrazione, che è discontinua e frammentaria, è percorsa da improvvise illuminazioni che a volte tendono anche alla ripetizione. I personaggi, altro fattore importante, stentano a realizzarsi, cioè rimangono nella condizione di chi proclama a gran voce i propri valori. Eppure non riesce a dare una ragione profonda all'esistenza. Probabilmente questo tema è comune a molte persone in questo periodo storico. Bene, quindi, la caduta sostanziale delle certezze in sostanza apre la porta a questa famosa modernità. Per quanto riguarda la sua personalità, chiaramente letteraria, è irta di scissioni e di conflitti. Quindi, all'ardente misticismo della sua religiosità unisce una ricca sensibilità estetica e una diciamo sensualità esuberante, se vogliamo. Mentre alle doti di acuta indagine psicologica e alla morbidezza sentimentale della sua ispirazione lirica sovrappone invece un ardore egoistico di stampo eroico, alferiano se vogliamo, e romantico chiaramente. Ma a disciplinare la molteplicità degli impulsi interviene la necessità di una regola che Tommaseo recupera da una parte nella rigidezza moralistica dell'originare educazione ecclesiastica, dall'altra nell'accuratezza di stilista diciamo raffinato e sottile che tocca spesso i limiti del puro virtuosismo. Mi risulta quindi un'estrema modernità di atteggiamenti e di invenzioni, ma a volte troppo sovente nell'impaccio dello schematismo e della pedanteria. Diciamo che mi sento molto vicino al Tommaseo dal punto di vista appunto linguistico, letterario, perché anch'io scrivo, per me è un piacere farlo, e via dicendo, però ecco, delle volte ci sono dei momenti così di genialità che escono fuori, però poi dall'altro lato vengono in qualche modo un po' soffocati dallo schema, dal punto, dalla virgola, dal rivedere il periodo, da rivedere la frase, e via dicendo. Quindi credo che sia un classico in chi si diverte così a scrivere e a diffondere il proprio sentimento attraverso insomma le lettere, il linguaggio e la letteratura. Però devo dire che è un personaggio che amo moltissimo, di fatti ho comprato il suo autografo e ne sono veramente orgoglioso. Comunque io spero di essere stato chiaro, chiaramente se avete dei dubbi scrivete nei commenti e niente sono tornato tra voi spero di pubblicare un prossimo video così brevemente e niente io vi ringrazio grazie mille per l'ascolto e l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.